La tassa di soggiorno la pagano i turisti, gli albergatori la riscuotono solamente. Vorrei sottolineare che si tratta veramente di un importo assai modesto, cioè di 50 centesimi. Soprattutto vorrei sottolineare che nel corso di questi anni Napoli è una città che ha visto una vera e propria impetuosa crescita di turisti e il turismo è diventato, per tutti quelli che vi lavorano e vi operano, ovviamente per noi sono ancora pochi, devono diventare sempre di più, comunque certamente occasione in cui le possibilità di reddito e di profitto sono enormemente cresciute, quindi penso che se una piccola quota di questa grande circolazione di risorse va al Comune per migliorare le proprie attività, credo che specialmente in un tempo così in magro bilancio sia un fatto necessario. Vorrei ricordare che noi utilizziamo la tassa di soggiorno per la promozione culturale e turistica, penso che lo facciamo bene, perché Napoli da qualche anno è considerata, come potete vederlo con i vostri occhi anche ora qui al PAN, la città con la migliore offerta culturale e turistica di questi anni nel nostro paese, quindi credo che il nostro lavoro è importante. Vorrei ricordare che in questa città, grazie al Comune, vi sono importanti strutture culturali e monumentali che sono aperte, che sono aperte anche nei giorni di festa, che sono gratuite, penso a Castel dell'Ovo, penso al Cimitero delle Fontanelle, penso al grande circuito delle chiese monumentali di museo aperto, quindi tutte gratuitamente, quindi questo è un vantaggio competitivo della nostra città, chiunque viaggia e va in altre città sa che solo per guardarlo un monumento bisogna pagare dei ticket a volte abbastanza alti, quindi credo che veramente preoccupazioni non ce ne siano, almeno da questo versante, nel senso che non sarà questo piccolo aumento della tassa di soggiorno a creare problemi, ma anzi ci metterà nella condizione di migliorare alcuni servizi, dobbiamo, penso, molto migliorare in termini, e questo è uno degli obiettivi della tassa di soggiorno, di alcune aree critiche con la videosorveglianza, per esempio, dobbiamo dotarci di una struttura di promozione capace di durare nel tempo, come il DMO, il Destination Manager Operator, quindi sono tutte cose che faremo anche grazie a questo, ripeto, piccolo aumento che aiuta il comune a corrispondere meglio alle domande che i turisti ci pongono quando vengono nella nostra città. No, non c'è da preoccuparsi assolutamente, sono talmente i guadagni che arrivano in città che tutto quello che in più si ottiene in città verrà investito per la città, quindi non ci sta nessun aumento stratosferico, stiamo assolutamente nei parametri, ricordiamo a chi è preoccupato che Napoli prima non veniva nemmeno attraversato da un turista, ma solo come dire, riempita di piani di spazzatura e che la città deve migliorare nei servizi e al miglioramento dei servizi devono contribuire tutti. Quindi non ci sta nessun aumento sproporzionato, stiamo in linea con le città italiane, con le città europee, anzi al di sotto, nonostante la bellezza di Napoli è nettamente al di sopra di tantissime altre città dove si paga molto di più, quindi non c'è motivo da preoccuparsi, anzi invito tutti quanti a dare sempre di più per la città, perché la città ha bisogno di dono, ha bisogno di amore, ha bisogno di impegno e ha bisogno anche del fatto che non ci sta sempre qualcuno che deve migliorare sempre di più la città, soprattutto un comune con le casse vuote, pieno di debiti ereditati, quindi questo ormai lo sanno tutti e quindi noi anzi ci auspichiamo che si faccia sempre di più a cominciare da noi, ma questo vale per tutti.